Il film deve dare un volto Cine Libri della Universal, tutti tratti da grandi capolavori della storia della letteratura o da bestseller della narrativa contemporanea. Prendete il caso di Amabili Resti, il bestseller omonimo di Alice Sebald è stato il romanzo d'esordio più venduto negli Stati Uniti dai tempi di Via Colvento e quando diventa un film diretto dal regista del Signore degli Anelli, Peter Jackson, acquista una potenza, una forza, un'energia che nel romanzo non aveva la storia della storia. La ragazzina brutalmente violentata e uccisa da un vicino di casa quando aveva solo 14 anni, vista sullo schermo fa venire i brividi, così come gli fa venire il serial killer che costruisce case di bambola, interpretato da uno stanitucci con parrucchino biondo e mascella allargata e con un volto che riesce davvero a rendere per tutti noi la agghiacciante banalità del male. Invece del parrucchino ha un caschetto da paggio il killer solitario e psicopatico interpretato da Javier Bardem nel film che i fratelli Cohen hanno tratto dal capolavoro di Corman McCarthy, Non è un paese per vecchi. Qui siamo di fronte a un mondo in cui ci si sbrana a vicenda, un mondo in cui tra la polvere e i sassi del deserto si aggirano lupi che indossano stivali e cappelli da cowboy e hanno i denti e il ventre avidi di sangue. Qui un senso di fatalità acre incombe su tutta la storia e il dilagare del male rende il mondo simile a un feroce mattatoio. Al confronto perfino un classico dell'immaginario gotico come Frankenstein riacquista qualche accento di dolente umanità in quanto creatura infelice che protesta per l'imperfezione a cui è stata condannata dal suo improvvido creatore. La terrificante leggenda del prometeo moderno creata dalla fantasia gotica e romantica della scrittrice Mary Shelley nel 1818 quando lei aveva soltanto 19 anni diventa sullo schermo una specie di grande cosmogonia fatta di acqua e di fuoco che il regista Kennebrana mette in scena con accenti e tonalità quasi shakespeariane in un film in cui il vero mostro non è tanto la creatura ma il dottore che l'ha creata. Anche in Il buio oltre la siepe tratto dal romanzo premio Pulitzer della scrittrice esordiente Harper Lee il mostro che violenta una ragazzina all'inizio non sembra tale e svela solo alla fine la sua vera identità. Conservando anche nel film l'ambientazione nell'Alabama degli anni 30 il regista Robert Mulligan riesce a fare del film uno straordinario toccante apologo sulle dinamiche attraverso cui il conformismo e l'intolleranza insinuano ovunque le loro radici venenose e insegna anche a noi o quantomeno ci invita a diffidare dei pregiudizi e dell'ostilità con cui in genere giudichiamo quello che non conosciamo e che sta lì nel buio appena oltre la siepe di casa. Sono quattro DVD questi che non possono mancare nella vostra videoteca di casa raccontano storie amare ma potenti di quelle che ci appassionano ci emozionano e ci aiutano anche a capire qualcosa di più del mondo in cui ci è dato di vivere.